Quando concepisco un lavoro spesso parto da una storia che può essere una storia di cronaca, una storia coletto e poi da lì inizio a stratificare una serie di racconti e narrazioni, prendere dei frammenti e delle storie e di inserirle all'interno di un sistema in cui possono in qualche modo esistere, scambiarsi e lo vedo molto come un tentativo di parlare di certe dinamiche appunto del digitale e di internet senza necessariamente avere un linguaggio che è quello del web. Da questo workshop mi porterò via di sicuro tanto materiale e tante referenze di cui si è parlato che vorrò approfondire. Ho vissuto questi giorni proprio come una continua compressione in una situazione più formale e poi questa decompressione con gli altri e magari quando la giornata era conclusa. Credo una serie di proiezioni future sia su di me come ricerca che come dialogo e relazione con tutti gli altri.